Ciao a tutti! Oggi partiamo così, in modo molto diverso, perché molti di voi, alcuni di voi, mi hanno chiesto di fare una versione aggiornata della mia collezione di film. Vedete qua, eccola. Ah, tra l'altro, attenzione, guardate chi c'è. Tadà! Ciao Manilina! Oh, che bella Manilina! Ecco qua, c'è anche la valletta, la fotomodella, in realtà è la regina, sono io il valletto, praticamente. Comunque, tanti di voi mi hanno chiesto, fai una versione aggiornata della tua collezione di film? Perché sì, io compro DVD, ancora, non so se sono l'unico, in caso vi prego, fatevi sentire! C'è bisogno di voi, perché a me piace, comunque, finanziare in qualche modo e avere fisicamente i film che mi piacciono da riguardare. E molto spesso, tra l'altro, mi piacciono dei film, o comunque i miei film preferiti sono dei film che in streaming non ci sono, o che comunque non sono usciti in Italia, quindi può capitare che prenda DVD dall'estero. Quindi vi faccio vedere un po' quello che ho e sappiate che ormai non posso praticamente più aggiungere niente e vi faccio capire anche un minimo l'ordine generico che mi sono dato, perché vedete che ho questi cubotti e nei cubotti ho cercato di dare una vibe generale, che però molto spesso non è assolutamente rispettata per questioni di spazio. E possiamo iniziare. Ok, eccoci qua, questi sono i cubotti in cui tengo i DVD, che come vedrete sono in doppia fila. Non mi soffermo troppo, perché altrimenti c'è troppo di cui parlare. Vorrei io partire da questo cubotto qua. Nel cubotto qua dovrebbero esserci film di cinema orientale, che però non sono giapponesi, perché i giapponesi li ho qua. Ma come vedete già da qualche titolo che compare, non è un ordine rispettato al 100%. Facciamo finta di niente, perché è proprio questione di spazio. Ci sono anche dei libri di cinema che non ci stavano nella mia sezione cinema della libreria e che comunque stavano giusto nel mood. E ci sono anche dei film che, come vedete, orientali non sono, o comunque orientali non giapponesi non sono. Partiamo subito da questi. Allora, Drive My Car, epocale. Voi sapete quanto l'ho amato. È un film giapponese, quindi dovrebbe stare qua. Però non c'è spazio, l'ho messo qua ed è un recente acquisto. L'ho adorato tantissimo, film emozionante, spettacolare, molto muracamiano, ma anche minimal. Ve ne ho parlato nella recensione apposita, per me è capolavoro assoluto. E poi qua abbiamo film che di orientale non hanno niente. Però c'era comunque una vibe, anche un po' queer. Quindi, a parte il primo, che è proprio essere John Malkovich, che è una commedia bizzarra, surreale, del grande Spike Jonzee. Anche questo è un film che in realtà ho recentemente comprato e che è finito qua, proprio perché era lo spazio più libero. Poi abbiamo dei grandi classici. Shortbus è uno dei miei film must dell'adolescenza. Un grande classico queer, che è di Anjali Conversation, di Derek Jarman, spettacolare, con colonna sonora dei Coil. Un altro grande classico queer, che è Pink Narcissus. Il film è molto artistico, veramente seminale. Poi abbiamo dei libri. Ho questo libro sul cinema di Koji Wakamatsu. Ho, ad esempio, questo libro sul cinema sperimentale giapponese. Ho una monografia sul mio adorato Tsai Mi Yang, che voi sapete essere il mio regista preferito in assoluto. Ho un altro libro sulla Nouvelle Vague giapponese. Ho un libro sui Pink Ueiga, che sono i film d'autore, anni 60-70, erotici giapponesi. Ho un altro film sul cinema giapponese underground. Ho questa monografia su un altro mio adorato, che è Shigna Tsukamoto. Ho un altro libro sul cinema giapponese. Ho un libro sull'immaginario erotico, mettiamola così. Ho la sceneggiatura e sketchbook di Parasite e di Bong Joon-ho. E poi, appunto, qua invece siamo in tema, perché ho tutti i film orientali, non giapponesi. Ok. Quindi, ad esempio, ovviamente Parasite. Ovviamente il mio amato Burning, di Li Chandong. Mademoiselle di Par Chan Vuk, che non vedo l'ora di vedere il nuovo di Par Chan Vuk. E poi Tsai Mi Yang. Ho Stray Dogs, I Don't Want to Sleep Alone, Il Gusto dell'Anguria, che ora è laggiù. Spettacolare, naturalmente il mio must. Assoluto, vive l'amour. Che io ho trovato in DVD solamente in francese, con l'accoppiata di un altro suo film, che è Il Fiume. Poi ho, ahimè, questo acquisto purtroppo, che io speravo tantissimo, ma purtroppo il mio lettore non legge i Blu-ray. Quindi dovrò rimediare, perché finora questo libro, questo film è illeggibile sul supporto che ho. Che è un film iconico del cinema taiwanese, A Brighter Summer Day, di Edward Young. Ho un film cult del cinema un po' trescino, che è Sex and Zen, che è un film erotico molto stravagante, oserei dire, hongkongese. E poi naturalmente tutta la mia collezione di Wong Kar Wai. Ho In the Mood for Love, spettacolare. E ho questo cofanetto francese, che contiene alcuni suoi film, di cui ovviamente Hong Kong Express, Fallen Angels, Happy Together. Quindi sono molto molto contento. E' proprio il film della sua prima, della sua primo periodo. Qua dietro invece ho Spettacolare, Oasis di Li Chang Dong, Cast Away on the Moon, una delle migliori commedie romantiche e surreali di sempre. Millennium Mambo, spettacolare film taiwanese di Oasisien, I.I., che ho in due versioni. Ho una versione italiana, in italiano, che era allegata a internazionale, l'ho trovata in un mercatino. I.I. è uno dei miei film preferiti in assoluto. E ho anche la versione Criterion Collection. Poetry, di Li Chang Dong, Secret Sunshine, di Li Chang Dong, Siclo, che è un bellissimo e crudissimo film vietnamita, molto bello. Colori al neon, spettacolari. Ah, Angeli Perduti, di Wong Kar Wai. Vedete che ho anche la versione in italiano. Questo è un film filippino di Love Dietz, The Woman Who Left. Questa è Three Extremes, che è un film che contiene in realtà tre mediometraggi di genere horror grottesco, di tre giganti del cinema orientale, quindi Takashimike, Fru Chan e Park Chan Vuk. Questo è un classico del cinema coreano, che è di Housemaid, degli anni Sessanta, spettacolare. Still Life, è un film cinese di Jia Zhang Ke, meraviglioso. Questo è un film tailandese stupendo, che è Lo Zio Bumi, che si ricorda le vite precedenti. Questo è un film particolarissimo, che non riuscirò a tirar fuori, non ho voglia di tirar fuori tutto. Comunque è 301, 302. È un thriller psicologico coreano stupendo, degli anni 90, tutto basato sul rapporto di violenza psicologica tra due vicine di casa. Ma è inquietantissimo, gestito benissimo, adoro. Memories of Murder di Bong Joon-ho, la trilogia della vendetta, naturalmente, di Park Chan Vuk. Poi tutto Kim Ki-Dook, voi sapete che Kim Ki-Dook lo adoro. Ovviamente c'è Ferro 3, che è il mio film preferito in assoluto, insieme a Viv L'Amour. Crocodile, Il Soffio, L'Arco. Ho questo cofanetto meraviglioso, che contiene L'Isola, Bad Guy e Address Unknown. La Samaritana, Primavera Estate e Time. Qui dovrei avere cinema giapponese, ma c'è qualche infiltrato, come vedete. Partiamo subito da questi. Allora, Carneficina è un film spettacolare di Toshio Matsumoto, un grande classico, un film di samurai molto noir, in realtà, molto scuro, anche con dei tratti quasi horror psicologico. Un altro grande classico del Cinemani 60, L'Impiccagione di Nagisa Oshima, stupendo. Poi ho a caso il film su Yves Saint Laurent, che è qua per problemi di spazio, come vi dico sempre. Questo film stranissimo di Takashimi, che è una sorta di gangster movie, pulp, The City of Lost Souls. Poi ho il film, forse perché c'era la componente moda, il documentario su Alexander McQueen, il documentario su Ralph Simons, quando è stato nominato direttore creativo di Dior, Dior and Die. Bellissimi questi tre film, se vi piace il mondo della moda. Poi vabbè, uno dei miei film preferiti in assoluto, il delirante Hausu, uno dei film più visionari, creativi, mai realizzati. Un classico di Nobuo Iko Bayashi, ve lo racconto anche nella recensione apposita sul canale. Poi ho questo Horror AG, anni 60, giapponese, che è il Pozzo di Satana, divertente, carino, ha una bella vibe alla Lamberto Bava in salsa orientale, ci sta. Poi ho Battle Royale, grande classico, anche questo uno dei miei master adolescenza, lo stupendo Tokyo Decadence di Ryu Murakami, purtroppo. Ho l'edizione DVD italiana, che tengo per collezione, perché l'edizione italiana, ahimè, è tagliata. Non è tagliata nelle scene di sesso, in realtà, perché paradossalmente, quando è uscito nel 91, ed è stato un grande successo al botteghino anche in Italia, è stato, volevano proprio comunicarlo come un film trasgressivo ed erotico, quindi hanno tagliato le parti che servivano alla trama. Cioè, praticamente, hanno tagliato delle parti dove, soprattutto la seconda parte del film, che invece era molto emotiva, introspettiva, priva di scene erotiche, purtroppo l'hanno tagliata, perché in realtà è un film d'autore molto intenso, bellissimo. Vi consiglio di recuperare la versione uncut, che è quella originale, solo noi italiani l'abbiamo tagliata in questo modo, spacciandolo per un film erotico e basta. Io, però, sono contento di avere il DVD, perché lo tengo per collezione. Un grande capolavoro degli anni Sessanta, La Donna di Sabbia, di Te Shigahara. Guilty of Romance, di Sionsono, spettacolare. Io adoro Sionsono. Il mio amato Shinya Tsukamoto, di cui ho tanto, purtroppo non tutto. Ho questo bellissimo kofanetto, che contiene tutta la trilogia di Tetsuo. Cioè, no, in realtà ha Tetsuo 1, Tetsuo 2 e Il ragazzo del palo elettrico. È anche un bellissimo libro monografico, veramente stupendo. Quindi ho anche Il ruko de Goblin, che è un suo film dei primi anni 90... no, fine anni 80, credo che sia dell'89... no, del 90, che è come se Tsukamoto si mettesse a fare quei film per teenager horror che andavano di moda negli anni 80, però ovviamente a modo suo. Tokyo Fist, Bullet Ballet, stupendo. Gemini, che è ispirato al racconto di Edgar Allan Poe, buongiorno, di Radogawa Arampo. A Snake of June, uno dei miei film preferiti. Vital. Hades, che è un mediometraggio molto claustrofobico e soffocante, che sembra solo l'enigmista, ma in realtà è mille volte meglio, perché parla di quest'uomo che si risveglia in una stanza, non sa come c'è finito, non sa come uscire. Ed è molto splatter anche. Nightmare Detective, questo è un film molto criticato, in realtà io lo adoro. Sarà che io amo tantissimo anche il J-horror. Questo è Shinya Tsukamoto, che fa uno dei J-horror migliori di sempre, secondo me. L'iconico audition è di Takashimike. Poi ho Love Exposure, Capolavoro, Grottesco e Pulp di Sion Sono, il film che Tarantino avrebbe sempre voluto fare, praticamente. Funeral Parade of Roses, uno dei miei film preferiti in assoluto. must degli anni Sessanta, uno dei film queer più belli di sempre. Praticamente non esiste in DVD nessuna lingua se non in francese o in giapponese. Io ovviamente l'ho preso in francese, non poteva mancarne la mia collezione. Questo film splendido di Ryusuke Yamaguchi, che è uno dei più interessanti registi giapponesi contemporanei, Il gioco del destino della fantasia. Uno dei film più pazzi di Takashimike, che è Visitor Q. Poi ho un altro dei miei film preferiti, Cure. Forse il thriller più bello di sempre. E un classico di Shoei Mamura, Vengeance is Mine. Anche qua non sto a togliere cose, però Zombie contro Zombie, titolo sceno per un film geniale. Una bellissima commedia sulla passione del cinema. Le Verità, che è un film internazionale, in realtà di produzione francese, ma diretto dal grande Hirokazu Kureda. È il suo film fuori dal Giappone. Wool 100%, che è una commedia bizzarra, surreale, che potrebbe piacervi se amate le atmosfere dal Favoloso Mondo di Amélie, di quel tipo di commedia un po' fiabesche. Perfect Blue, anime iconico di Satoshi Kon, così come Paprika. Il mio amato Seijun Suzuki, che è uno dei migliori, dei grandi maestri del cinema gangster giapponese. La farfalla sul mirino. E poi ho questo cofanetto, di cui soprattutto vi consiglio Tokyo Drifter, che è il suo grande capolavoro. Qua due film teen, Linda, 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 uno dei film teen più belli di sempre, secondo me molto realistico nel tratteggiare le insicurezze dell'adolescenza, l'amicizia nel tema dell'adolescenza. Kamikaze Girls, che è un film bizzarro, surreale, una commedia teen, anche questa, giapponese, molto divertente e creativa, che piacerà tantissimo a chi ama l'universo anime e manga. Ladies No Blood, grande classico, che poi è stato ripreso da Tarantino per Kill Bill. Big Bang Love Juvenile, un Takashimike, inaspettatamente queer, ambientato in una prigione, molto introspettivo. The Whispering Star, che è un film pacco polacco, di Sion Sono, lentissimo, però molto evocativo. Araki Mentari, è un documentario sul fotografo giapponese Nobuyoshi Araki, di Partures, è un film molto bello, sull'elaborazione del lutto, la morte, però con un tono da commedia dolciamara, veramente delizioso. Questo è un cofanetto del mio amato Ozu, che ovviamente contiene Viaggio a Tokyo e Tarda Primavera, che sono i miei preferiti, ma anche Fiori di Equinozio. Ichi The Killer, Grande Must Pulp, di Takashimike, così come Gozu. Kitano, di cui ho, almeno in questa casa, perché altri li ho lasciati a casa dei miei, Hanabi e Dolls, che sono i miei preferiti di Kitano. Ovviamente il mio amato Kureda, Nobody Knows, Nessuno lo sa, Father and Son, Ritratto di Famiglia con Tempesta, Un Affare di Famiglia, Furio di Nagisa Oshima, con un bravissimo David Bowie come attore, L'impero dei sensi di Nagisa Oshima, spettacolo, e Gashin Prayer di Masao Adachi, grande regista della Pink Weiga giapponese. Stupendo. La vibe di questo cubotto, che come vedete è già pieno di roba, dovrebbe essere invece classici del cinema europeo, a cui si sono aggiunti degli outsider. Vi faccio vedere innanzitutto che qua ho una musicassetta degli Sugar Cubes Regina. Sugar Cubes sono la band storica di Bjork. Qua ho un po' di libri. E ho il box delle Spice Girls, quindi ve li faccio vedere brevemente. Allora ho una monografia su Kim Ki-Dook, una su Michelangelo Antonioni, ho qualche libro di questa collezione di Odoia, sull'Italia occulta, il cinema erotico e il folk horror. Ovviamente ho il special edition del primo album delle Spice Girls. E qua ho, allora, un altro libro sul cinema di Yorgos Lantimos, grandissimo regista greco, dei DVD di Bjork. Ho questo, che è il live spettacolare alla Royal Opera House. Ho il DVD che contiene tutti i videoclip musicali fino al 2002. Ho un altro concerto, uno dei primi concerti che ha fatto, Vessel. Ho il DVD di Medulla. Naturalmente ho Dancer in the Dark, non poteva mancare. Questo è un film svedese molto particolare, I am Curious. È stato tacciato appunto di scandalo all'epoca dell'uscita. È un film molto politico in realtà, che non ha troppo l'aspetto erotico, sconvolgente. È un film che ha fatto il suo tempo, che comunque è un grande classico. Ovviamente ho Tarkovsky, alcuni almeno. Stalker, Solaris, Lo specchio e Nostalgia. Sono i miei preferiti. Poi ho questo film ciecoslovacco, Gli amori di una bionda, di Milos Forman. Delicatissimo, bellissimo. Almodovar, alcuni almodovar almeno, Dolori Gloria e Tutto su mia madre. Uno dei miei film preferiti in assoluto, che è Il deserto rosso di Antonioni, con una splendida mola ai Cavitti. Poi ho un altro Antonioni, che è Identificazione di una donna. Il raggio verde di Romer, Ultimo tango a Parigi, vabbè, grande classico. Ho dei film di Ruben Ochtlund, quindi ho Forza Maggiore, e The Square, in attesa che esca il DVD di Triangle of Sadness. Poi ho questo bellissimo film, una commedia dolce amara sul rapporto genitore e figlia. Vi presento Tony Herdman, della regista tedesca Maren Hade. Bravissima. Me and You and Everyone We Know, che io trovo sempre delizioso, un film corale, bellissimo, sull'amore e la solitudine, di Miranda July. Un film norvegese, che mi ha toccato molto, che è la persona peggiore del mondo. Poi ho, qua, Lars von Trier e Zimilia, parte feste anche di Winterberg, ma nel mood ci stava. Le onde del destino, Death in the Dark, che ho doppio, tra l'altro Death in the Dark. Dogville, Manderley, Il grande capo, Antichrist, Melancolia, Ninfomaniac, Blow Up di Antonioni, naturalmente, L'Eclisse di Antonioni, Zabrisky Point, Professionaire Reporter. Questo è un grande classico del cinema ad essai, che è Treté de Bave d'Eternité. Godard, di cui ho questo doppio DVD, che continua sia Alfaville, che è L'Elas pour moi, Bandapar, che è il mio preferito, di Godard, insieme a, in realtà, Pierrot Lefuma, di cui mi manca il DVD, Il disprezzo di Godard, Weekend, quello scuro, e questo è Buñuel, invece, quello scuro oggetto del desiderio, il fascino di scritto della borghesia. Là sopra abbiamo, Salò, le 120 giornate di Sodoma, di Pasolini, Nanni Moretti, che mi piace molto, sia Bianca, che è là in alto, Palombella Rossa, Caro Diario, Persona di Bergman, che non può mancare, L'Ora del Lupo, che è l'altro mio preferito di Bergman, molto dark, molto cupo, Spell, Dolce Mattatoio, che è un film iconico, del cinema underground italiano, e Almodovar, una delle mie commedie preferite, Donne sul loro di una crisi di nervi, adoro. Questo cubotto, invece, riguarda cinema europeo, in generale, più contemporaneo, anche se, come avete visto, qua c'erano dei contemporanei di mezzo, lasciamo perdere, e poi qua c'è qualcosa comunque di americano, quindi sono proprio delle linee guida, così ad emble. Allora, partirei da questi prima, eccoli qua, Allora, infatti, come vedete, ho Before Sunrise e Before Sunset, che fanno parte della bellissima trilogia di Linklater, sull'amore, un classico del gotico, Miriam si sveglia mezzanotte, il film che tutti gli amanti del post-punk devono vedere, assolutamente, con una miravigliosa, Catherine Deneuve, e un enigmatico, David Bowie, Il cielo sopra Berlino, di Wim Wenders, delicatissimo, molto poetico, con anche l'iconica scena nel locale dove suona, Nick Cave, un film romeno che vi ho presentato sul canale, e per me è stato veramente un colpo al cuore, che è Bad Luck Banging or Looney Porn, spettacolo, classico degli anni 90, Lola Corre, Elephant e Last Days, di Gus Van Sant, poi ho, allora, Buongiorno Notte di Bellocchio, La Pisonnière, che è un film francese, noir, molto particolare, molto visionario, sto facendo dei commenti un po' così, però sappiate che praticamente se ho il DVD, mi piacciono tutti questi film, il mio amato Roy Anderson, You the Living, è un piccione seduto sul ramo, riflette sull'esistenza, io l'amo molto, sulla infinitezza, mi ha un po' deluso, però alla fine Roy Anderson va sempre bene, poi ovviamente Iorgos Lantimos, di cui il mio preferito è assolutamente Doctus, ma ovviamente ho anche The Lobster, e ho Il Sacrificio del Cervo Sacro, poi il mio film preferito di Anneke, Il Settimo Continente, devastante, Funny Games, il primo, ovviamente non il remake, La Pianista, niente da nascondere, Il Lastro Bianco e Amur. Poi ho questo film norvegese, che è bellissimo, Blind, di Eskil Vogt, è una commedia nera, molto bizzarra, stravagante, sul potere della scrittura, secondo me. Poi ho Valerie and the Week of Wonders, classico del cinema ciecoslovacco, un fantasy surreale bizzarro, Belatar, L'uomo di Londra, Il Cavallo di Torino, Satan Tango e Le Armonie di Werkmeister. Poi ho questo DVD, che contiene alcuni episodi di Cinico TV, che era una serie TV molto strana, di Daniele Cipri e Franco Maresco, che ci trascinano in questa Sicilia, molto cupa, molto fredda, apocalittica, con dei personaggi molto particolari, diciamo. Io amo, in realtà, mi piace un sacco il cinema di Cipri e Maresco, infatti qualcosina ho. Kubrick, Lolita, Full Metal Jacket, 2001 di Sennò allo Spazio, Svatchat, Favoloso Mondo di Amélie, delizioso, un grande classico. Mommy, di Xavier Dolan, questo è Haxan, La stregoneria attraverso i secoli, una docudrama, un docufiction, danese degli anni 20, che racconta appunto la storia della stregoneria, L'albero dei desideri, film sovietico molto vecchio, Il colore del melograno, un classico del cinema armeno, Le ombre degli avi dimenticati, questo è un film ucraino, degli anni 60, 60-70, molto bello dal punto di vista visivo, il regista è lo stesso del colore del melograno, La supplica è un vecchissimo film, mani 60 georgiano, qui ho Dog Tooth, in un'altra versione, perché Dog Tooth è DVD italiano, quello che vi ho fatto vedere, questo è il DVD inglese, Holy Motors, di Le Oscara X, bellissimo, Enter the Void, di Gaspar Noé, così come Irreversible, questo è il DVD ungherese, che ho comprato proprio a Budapest, ai sottotitoli, non preoccupatevi, sottotitoli in inglese, di Corpo e Anima, che è un film ungherese, che qualche anno fa aveva fatto incetta di premi, molto bello, molto particolare, La schiuma dei giorni, di Michel Gondry, Underground, di Kusturitsa, Arca russa, di Sokurov, 29 Palms, è un film di Bruno Dumont, molto particolare, ma allo stesso tempo, non per tutti, crudo, violento, deve piacere, Ulrich Seidl, Canicola, regista austriaco, che mi piace barecchio, lui fa questa, ha questo approccio, un po' freddo, statico, ma con un sottile umorismo, su, un occhio molto lucido, sulla realtà umana, attraverso questi ritratti, un po' degradanti, Canicola in particolar modo, è una serie di sketch, che si unisce, di varie persone, durante i giorni più torridi dell'anno, ho un documentario su Maurizio Cattelan, Perfetti Sconosciuti, che è commedia geniale, bellissimo, a me piace un botto, Ritorno di Cagliostro, che è un film dell'accoppiata cipri maresco, così come Lo zio di Brooklyn, L'Enfant, dei Dardenne, Rosetta, dei Dardenne, L'odio classico del cinema di 90 francese, La classe, che è un film francese, ambientato in una scuola, con un piglio quasi documentaristico, comunque molto realistico, e fa la cosa giusta di Spike Lee, quindi questo è un po' quello che c'è nel quarto cubotto. Allora, in questo cubotto invece ho cinema mainstream, ho cinema d'autore americano, ho un gran mischione, qua vedete un buco perché c'era questo, e dà un fastidio enorme, dovrei trovargli un'altra posizione, poi si perdono, è la collezione completa dei cazzilli, dei wizis che davano l'esse lunga, di cui uno mi è caduto e dovrò ritrovare. Comunque, qui appunto, mischione, e ho la saga completa di Harry Potter, ho Animali Fantastici, il primo però, che è l'unico che mi è piaciuto, sinceramente, ho Stregata dalla Luna, che però non riesco a guardare, perché io credo di aver sbagliato, di aver comprato il DVD americano, e non si riesce a guardare sulla mia TV. Vabbè, quindi la regione sarà diversa, non lo so. Ah, togliamo prima questi, tra l'altro, allora, che come vedrete, tra l'altro c'è già Nirvana di Salvatores, dovrebbe stare qua per logica. Questo è uno dei film più coraggiosi del recente cinema italiano, anni 90, un sci-fi cyberpunk di Salvatores, film di culto pazzesco, Nightmare Before Christmas, questo è Il diritto di contare, L'uomo che vide l'infinito, Il concerto di Lady Gaga, A Star is Born, Whiplash, bellissimo, di Damien Chazelle, e poi Black Kazman di Spike Lee. Qui invece ho La La Land, Blade Runner, Inland Empire di Lynch, tutto Lynch, Maloland Drive, vediamo, forse dietro poi c'è qualcos'altro, Velluto Blu, Trainspotting 2, Trainspotting 1, qua ho Cronenberg, Videodrome Crash, La Zona Morta, Call Me By Your Name, di Guadagnino, Tarantino, quindi in realtà ho poco di Tarantino, ho Le Iene, Kill Bill 1, Kill Bill 2, American Beauty, questo è un concerto di PJ Harvey. qua dietro invece ho, qualche, ho Coco, della Pixar, che mi ha fatto piangere, quindi si doveva avere, Priscilla, la regina del deserto, iconico film queer, Il Corvo, un must per chi ama il dark, ho il DVD di Spring Breakers, Il Diavolo Veste Prada, che è uno dei miei massimi guilty pleasure, a parte che è una commedia geniale, 24 Hour Party People, che è un film sulla storia della Factory, non di Andy Warhol, ma dell'etichetta che ha lanciato i New Order, e tutta la scena post-punk new wave inglese, Harold e Mode, e poi non so perché, ho il DVD esplorando il corpo umano, ma adoro tutto. Qui ho Fight Club, Mean Girls, iconico Mean Girls, Il Mago di S. Lunga, Iconico Film Trash, Carnage di Polanski, ho qualche classico d'animazione, tra cui Vip, Mio Fratello Superuomo, L'Era Glaciale, Le Avventure di Barba Papà, perché io adoro i Barba Papà, Western Soda di Bozzetto, La Storia Infinita, poi ho Mysterious Skin di Greg Arachi, Grande Must, anche questo qui era molto devastante, Mammina Cara, che è un film campissimo sulla storia di Joe Crawford, e del suo essere una matriarca che scatena abusi ovunque lei vada, Clueless, grande classico del teen cinema anni 90, Il Petroliere di Paul Thomas Anderson, un sacco di DVD di Sailor Moon, Le Folie dell'Imperatore, Fast and Furious, questo me l'hanno regalato, però adoro tutto, Observe Show, e Gli Incredibili. Qui, ultimo cubotto, il cinema horror, c'è gli horror che mi piacciono, c'è qualche horror trash, che però non può mancare nella mia collezione, qua su vedete già che c'è Dario Argento, L'Uccello dalle Piume di Cristallo, Profondo Rosso, Suspiria, top, Inferno, top, Tenebre, Fenomena, Opera, La Terza Madre, qua invece ho l'iconico Bosco 1, il film horror trash più bello di sempre, It Follows, L'aldilà di Fulci, bellissimo, The Blair Witch Project, Midsommar, Hereditary, The Lighthouse, top, The Witch, un sacco di horror asiatici vedrete, perché sapete che sono i miei preferiti, quindi The Call di Takashimike, Dark Quarter, The Red Shoes, Two Sisters, uno dei migliori, Possession di Zulavski, grande classico, Shatter, è un film tailandese pazzesco, rovinato dal remake americano, come molto spesso succede, Mare Bito, che è un horror di Takashi Shimizu, che è la regista di Ju-On, molto introspettivo, molto particolare e anche sperimentale, Infection, film horror, body horror, ambientato in un ospedale giapponese, Reincarnation di Shimizu, che è un altro, film del regista, appunto, che è una sorta di shining, con gli zombie alla giapponese, Retribution di Kiyoshi Kurosawa, Pulse, il mio horror preferito di sempre, così come Noroi, anche lui è in top three, e Suicide Club di Sion Sono, adesso tolgo tutto, vi faccio vedere quello che c'è dietro, eccoci, allora, ho un film orribile in realtà, che è Bitch Slap, veramente osceno, però lasciamo perdere, comunque, a quel piglio trash che ci piace, Planet Terror di Rodriguez, Scream, il primo classico, assoluto, The Ring americano, che è l'unico remake che mi è piaciuto, dei film horror asiatici, ovviamente ho tutti i The Ring, giapponesi, a meno i principali, The Ring l'originale capolavoro, The Ring 2 brutto, però vabbè ho la trilogia, The Ring Zero, Dem, che è un film francese, molto d'atmosfera, a me piace tantissimo, con poco riesce a creare un'atmosfera, una suspense davvero incredibile, Drag Me to Hell, che trovo divertentissimo, un film horror, commedia nera, di Sam Raimi, che veramente dovrebbe tornare più spesso, dal genere che sa gestire così bene, classicone, che è Lo Sguardo di Satana, H2 Odio, che è un film italiano in realtà coraggioso, di Alex in Fascelli, ovviamente ho Juwon e Juwon 2, Fawn, horror coreano, Premonition, che è un horror giapponese, Apartment 1303, film brutto, ma ci sta, ogni tanto mi piace anche riguardarlo giapponese, Black House è un horror coreano, The Ghost è un horror coreano, Wishing Stair è idem, e anche Sello, Sick Nurses è un film tailandese, pazzissimo, io ho il DVD export da Hong Kong, dovevo assolutamente averlo, è un film con horror surreale, anche divertente, splatter, con delle infermiere, totale, proprio è il film che dovete vedere, se siete curiosi dell'horror, ma avete paura degli horror, secondo me, The Park, che è uno dei miei film trash horror preferiti, Uzumaki, che è ispirato al film, al manga omonimo di Junji Ito, Leak Antropia Evolution, che è un horror teen canadese, che io reputo veramente interessante, intelligente, mi dispiace che non sia famoso, perché meriterebbe molto di più, meriterebbe di stare in quei cult, anni 90-2000, Cursed, che è un film horror giapponese, ambientato in un supermercato maledetto, surreale, grottesco, low budget, mi piace un sacco in realtà, grande classico, La casa dalle finestre che ridono di Pupiavati, classicissimo, Monosferato di Murnau, Iperclassico Alien di Ridley Scott, e classico, 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 La Cosa di Carpenter. Abbiamo finito! Quindi niente, questa era la mia collezione di DVD, aggiornata, fatemi sapere che ne pensate, io comunque mi ritengo molto soddisfatto. Detto ciò, fatemi sapere se tra i miei film, c'è qualche, qualcuno dei vostri preferiti, che ne pensate, ovviamente i gusti sono miei, la casa è mia, quindi ho la collezione che voglio io, però magari ditemi anche, perché non hai quello? Sono curioso, sono curioso. Detto ciò, io vi aspetto al prossimo video, cari amici cinefili, vi mando un bacione, e alla prossima, ciao ciao!